Allora, dove siamo diretti? Qui nel castello di Paia, la piazza del castello di Paia. Ok, Marti, ti piace questa avventura? Ok, dai. Allora, dove siamo diretti? 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 Oh, 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 oh Allora, dove siamo diretti? 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 Allora, però... che si ritorna a casa dopo un po' bella, questa qua, se lo infatti. Sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo è dei giorni che passano piccoli e lasciano in bocca il rosso del sale. Mi butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Sapore di mare, sapore di mare, sapore di mare. Sapore di mare, sapore di mare, sapore di mare.